Mondo del calcio e lutto è morto all'età di 59 anni Loris Dominissini all'ospedale di San Vito al Tagliamento in Friuli, l'allenatore che guidò il Come in una trionfale cavalcata fino alla Serie A. Da oltre un mese lottava contro una grave forma di Covid. Ex calciatore dell'Udinese, la squadra della sua città natale Dominissini, come detto a Como, fu autore di una grande impresa tra il 2001 e il 2002, il doppio salto dalla Serie C alla A. Dominissini era arrivato sull'Ario come secondo di Walter De Becchi nel 1999. In quella stagione, diventato tecnico titolare, riuscì a portare la formazione alla salvezza. Il passaggio in Serie A fu un'esperienza per lui meno fortunata, terminata con l'esonero e la sostituzione con Eugenio Fascetti. Ha allenato poi Ascoli, reggiana, udinese e pro patria ed è stato osservatore per il Genoa di Enrico Preziosi, che proprio a Como era stato suo presidente.